settimana, ma intanto seguiamo l'incursione della Juventus con la conclusione e la rete da parte di Kuluseski, uno dei pochi palloni toccati dallo svedese sinistro a gire, è una cosa che lui ha nelle sue corde piatto di sinistro nell'angolo più lontano Audero non ci arriva, dodicesimo minuto, la sbocca il numero 44 Dejan Kuluseski, Juventus 1, Sampdoria 0, Stefano Tallini e non poteva davvero esserci debutto migliore tre campi tutti in una volta, rimane un po' all'antica sulle sostituzioni mischia clamorosa in aria, la Sampdoria sbaglia e la Juventus trova con Bonucci il gol del raddoppio, questa volta regalato della difesa della Sampdoria su azione d'angolo, la Sampdoria non è stata in grado di spazzare via il pallone è arrivato Bonucci sotto porta e ha messo il pallone a porta vuota in rete minuto 30 è arrivato il gol di Cristiano Ronaldo al minuto numero 87 3 a 0 per la Juventus, diagonale di Cristiano Ronaldo torneremo subito a Torino l'argentino Schwarzman saluta il pubblico i mille fortunati che hanno assistito a questa incredibile partita tre